Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo un tutorial molto semplice e molto veloce, ma con un concetto di fondo. Oggi parliamo del DCP. Che cos'è un DCP? Molti che realizzano cortometraggio, che realizzano degli spot pubblicitari che poi andranno proiettati all'interno dei circuiti cinematografici oppure, come vi ripeto, per i cortometraggi o documentari che devono partecipare a festival o devono essere proiettati al cinema. Oggi con la tecnologia le sale cinematografiche che proiettano in digitale ormai quasi il 95%, vi richiederanno un file DCP. Che cos'è il DCP del vostro video? Il DCP, dall'inglese, è Digital Cinema Package ossia è un pacchetto che contiene alcuni determinati file per la proiezione in sala. Questo pacchetto viene letto dai software di riproduzione che sono presenti nelle sale cinematografiche e per questo lo richiedono perché loro hanno un server, un computer dove caricano questo pacchetto e questo pacchetto viene messo in play facilmente perché è uno standard quindi tutti i server sono adatti a proiettare quel determinato contenuto anche in 2K, in 4K perché è codificato in un determinato modo. Come è composto un file come è composto un DCP? Il DCP non è un file come può essere un file .mov, un file .av, un .mp4 no, è una cartella. All'interno di questa cartella troviamo un file .mxf per il video e un file .mxf per l'audio più altri due file che invece fanno parte dei metadata del progetto quindi del video, del corto, del film, del documentario, di quello che sia. All'interno dell'mxf che, per chi conosce un pochino più approfonditamente i codec l'mxf non è un codec, insieme è un contenitore all'interno ci si possono mettere più codec diversi. Le immagini video sono codificate in GPG-2000 ed è questo quello che normalmente le persone a cui devono realizzare un video per trasportarlo, per proiettarlo in una sala cinematografica gli viene richiesto di trascodificare in GPG-2000 è sbagliata come concetto perché poi molti cercano la conversione in GPG-2000 non sapendo che il GPG-2000 è un formato solo per il video perché fondamentalmente esporterà soltanto dei fotogrammi delle sequenze di fotogrammi e invece per l'audio? Per l'audio invece bisogna esportare ogni traccia su un file WAV naturalmente parliamo per le sale cinematografiche possono proiettare in stereo, in 5.1, in 7.1 e così via quindi andano esportate 5 tracce, 7 tracce e quant'altro tutte queste tracce poi vengono unite in un solo file mxf ma tutta questa procedura, io ho parlato di generazione di immagini quindi di GPG-2000 e vi do un altro dettaglio quando si esporta un video in GPG-2000 la tabella colori non è l'RGB quindi quello che voi vedrete una volta esportato questo materiale almeno sul vostro computer non avrà i colori con cui voi avete lavorato ma entra in un altro campo di colori che non so qui a spiegarvi perché è una cosa molto specifica e molto tecnica però sappiate che quando esporterete vedrete dei colori strani quando invece andrete a proiettare questo con un proiettore cinematografico che ha un player per i dcp vedrete i colori così come li avete realizzati e lavorati ritorniamo al discorso ma io sto parlando di paroloni, sequenze, esportare tracce e quant'altro ma tutto questo realmente come si fa? da poco è molto più semplice rispetto a prima esistono software adatti per l'esportazione di dcp ad esempio per il cinema dato che la finalizzazione non si fa mai col software di montaggio ma si fa con i software per il finishing quindi per l'ultima parte faccio un esempio da vinci da vinci è un software di color grading e di finishing di progetti e non solo ce ne esistono tanti altri di software del genere e normalmente il dcp si esporta da quei software là esistono plug-in per questi software ne esistono alcuni più complessi che hanno l'esportazione all'interno del software e uno dei software più conosciuti per la creazione di dcp è easy dcp che è un software stand alone che da un po' di tempo viene integrato anche all'interno di software come da vinci o altri ancora naturalmente questa azienda poi realizza i software per la generazione dell'dcp per la lettura quindi un player per l'dcp e un'altra cosa il kdm generator che cosa è il kdm generator? questa è una cosa che per non rivolgo nel mio tutorial perché è una cosa estremamente più grossa sarebbe la licenza la chiave di licenza quando una distribuzione vuole proiettare vuole distribuire il proprio file essendo adesso non più un supporto fisico che viene mandato spedito quindi la pellicola che viene spedita al cinema e che dopo il cinema deve restituire la distribuzione quindi ha una durata un lasso di tempo in cui loro affittano la pellicola oggi si affitta per un periodo di tempo un file i cinema molto spesso possono scaricarsi i file direttamente dai server della distribuzione e metterli in place ma soltanto nei periodi nei lassi temporali in cui loro l'hanno noleggiato e questo funziona grazie a una licenza che si chiama KADM questa licenza viene aggiunta al file non è una cosa che possiamo fare col metodo che vi dimostrerò adesso ma è una cosa che si fa con software adatti ad esempio come questo Easy DCP ma ne esistono tantissimi altri software per farlo fortunatamente dall'edizione CC 2015 di Adobe possiamo esportare un DCP anche da Premiere e infatti siamo qui proprio per voglio mostrarvi come è facile esportare un DCP se dovete proiettare naturalmente vi ripeto senza chiave quindi senza KADM quindi senza codice non potete distribuire il film con il DCP di Premiere perché non ha una chiave non si può aggiungere questo almeno per ora però se voi dovete partecipare a un festival a cui vi chiedono il DCP di un video potete esportarlo così stessa cosa se dovete esportarlo per uno spot pubblicitario che diventerà nei circuiti per il ruolo del cinema potete esportarlo così senza alcun problema allora ho una timeline con una clip musica e quant'altro non ho fatto null'altro che aggiungere una timeline in full HD quindi nulla di strano dissolvenze assolvenze la musica una semplicissima traccia 2.1 allora cosa faccio come buona norma per l'esportazione do un in e un out sul mio progetto è come se volessi esportare un qualsiasi altro file faccio file esporta file multimediali e torniamo al nostro classico pannellino dell'esportazione di Premiere adesso da chi ha la versione aggiornata di Premiere quindi dalla CC 2015 troverà una nuova voce che si chiama Raptor DCP la Raptor è un Raptor era un plugin era all'inizio un plugin che funzionava che con Premiere che aggiungeva la possibilità di esportare un DCP da questa versione questo plugin è integrato all'interno di Premiere quindi possiamo esportare direttamente un DCP senza fare nulla perché praticamente noi non faremo nulla di particolare se no andare a settare determinati valori e fattori allora diamo un attimo uno sguardo a quelle che sono le impostazioni così vi mostro qualcosa noi esporteremo possiamo esportare con una frequenza o di 25 fotogrammi al secondo perché la nostra timeline è basata su 25 fotogrammi al secondo oppure a 24 che sarebbero quelli la proiezione cinematografica normalmente avvira a 24 fotogrammi al secondo Premiere convertirà il vostro video da 25 a 24 senza problemi vediamo che il codec video si è scritto JPG2000 infatti l'esportazione sarà in JPG2000 poi abbiamo naturalmente che l'ordine di campo è progressivo e non possiamo variarlo perché non possiamo variarlo il bitrate sarà di 250 megabits per secondo come vedete c'è la voce strumenti aggiuntivi ed è qui che entrano cliccando su questo pulsante ed è qui che entrano in gioco le altre feature che possono avere che può avere questo plugin per Premiere ma andiamo con ordine prima vediamo quelle che abbiamo di base abbiamo le dimensioni del video ci arriviamo tra un secondo andiamo a vedere l'audio come potete vedere l'audio lo ritroveremo con un codec non compresso vabbè la frequenza di campionamento è 48000 e possiamo scegliere tra i canali stereo o 5.1 in questo caso io ho lavorato solo con i canali stereo quindi è inutile esportare un 5.1 perché esporterebbe tre tracce vuote quindi stereo va bene così adesso veniamo ai formati ai formati video possiamo esportare il 2048 per 1080 d'accordo quindi questo è il fotogramma a 1.85 per il cinema naturalmente quello che noi andremo a fare è un upgrade andremo a scalare la nostra immagine perché il video full hd è 1920x1080 facendo così invece andremo a zoomare la spectrazio andando a tagliare dei bordini sopra e sotto e arriveremo a una spectrazio di circa 1.85 possiamo esportare a 2048 per 858 questo invece è il 2.35 la spectrazio è il 2.35 oppure possiamo esportare nel formato flat quindi nel 16.9 nella spectrazio a 16.9 che è 1998x1080 in tutti i casi se ci fate caso andremo sempre e comunque a scalare il nostro file e questo perché le proiezioni cinematografiche quelle basi sono fatte sono realizzate a 2k le proiezioni digitali e questi tre formati sono tutti e tre formati a 2k per chi non lo sa per chi non lo sa la lettera k sta a significare il 2000 sta a significare il 1000 quindi 2k sarebbero 2000 pixel almeno sull'orizzontale quindi noi proviamo ad esportare ad esempio in Cinemascope allora dobbiamo selezionare una cartella di destinazione però come potete vedere c'è scritto timeline DCP che è la mia timeline su Premiere ma c'è il punto DCP questo non sta a significare che questo è un file assolutamente e adesso ve lo dimostro faccio salvo ho scelto la cartella di destinazione e faccio esporta ok Premiere è esportato però prima di andare a vedere cosa ha realizzato voglio tornare un attimo al sito del produttore della plugin che noi stiamo utilizzando all'interno di Premiere come potete vedere una volta cliccato su more features sul more features per la plugin si può vedere che quello che noi abbiamo installato è la versione light di questa plugin che ci permette di esportare in 2k nelle 3 risoluzioni full scope e flat a 4k invece c'è la versione pro che ci permette di esportare in 4k con un campionamento di 9600 Hz ci permette di esportare in 7.1 e non in 5.1 ci permette di esportare a frame rate come 30 48 50 e 60 e queste qua sono le differenze con questa versione se si vuole acquisire se si vuole acquistare il livello successivo se ve ne è bisogno naturalmente poi ci sono una serie di specifiche questo stesso produttore produce anche i software per la messa per il play di questi di questi file generati di questi dcp andiamo a vedere ora cosa è esportato Premiere io prendo la cartellina del progetto che ho realizzato e come vedete c'è la cartella timeline dcp punto dcp questo punto dcp è semplicemente per identificare che questa cartellina è un dcp ma non è non è un file perché come potete vedere io la apro e all'intorno troverò un file mxf per il video e uno per l'audio e poi in più tutti i file xml che sono tutti i file di metadata che servono per la messa a play del nostro video bisogna avere per forza un lettore di dcp per poter vedere quello che abbiamo generato naturalmente la miglior cosa è avere qualcuno che ha un qualche amicizia all'interno di qualche sala cinematografica anche più piccola che però abbia un sistema di proiezione digitale e testare il vostro file questa è la procedura che utilizzo sempre quindi vi assicuro che funziona spero che questo breve video spiegazione intro vi sia piaciuto se avete richieste informazioni potete contattarmi su facebook su twitter potete scrivere un commento qui e potete condividere questo video con gli amici che hanno bisogno di realizzare un dcp quindi cosa dirvi noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video con un nuovo video Grazie.